Credo sia arrivato il momento di decidere cosa vuoi dalla vita. Voglio realizzare un fumetto il più spietato che sia mai stato scritto. No, quello che vorreste adesso. Voglio marci flììììì! Bisogna trovare un titolo. La Trinità Atomica. In ogni storia che si rispetti c'è sempre un cattivo. Ragazzi, state prendendo una brutta piega. Ho paura per voi. Non fateli annoiare. Cos'è questo posto? È ignorello. Non fateli arrabbiare. Non posso farlo senza di te. Sei dalla mia parte, chiedi che tu. Non tutti devono rendersi la vita difficile per non annoiarsi. E non raccontate i loro segreti. Mi ha rivelato un segreto, ma non un segreto normale. È una cosa che non si può dire a nessuno. Ho paura che andremo dritti all'inferno. Non credo che esista l'inferno. Jodie Foster, Vincent D'Onofrio, Kieran Culkin. Vuoi una vita pericolosa? Qualcosa del genere. The Dangerous Lives of Alter Boris.